Eccoci con una parte di Polifemo che si occupa delle segnalazioni dei cittadini. Siamo con Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Irene Lamanna ha ricevuto delle lagnanze, delle doglianze di cittadini, precisamente di Via Vasaria a Taranto Talsano, che praticamente vivono in condizioni pietose, vuoi per quanto riguarda il manto stradale, che non esiste, è completamente sterrato, vuoi per l'assenza assoluta di illuminazione e quindi per la pericolosità della zona oggetto di furti e episodi criminosi. Irene Lamanna, raccontiamo questa brutta storia di Via Vasari. Lei è stata contattata e come operatrice, dovrei dire, del sociale in questo caso, ha voluto portare alla ribalta della cronaca questa incresciosa situazione. Sì, questi residenti di Via Vasari, di Talsano, vivono questa situazione veramente poco confortevole, poco agevole, poco assolutamente incivile, da diversi anni. Ci hanno contattato più volte per andare in loro soccorso, abbiamo cercato di fare il possibile. Finalmente la strada è stata acquisita dal Comune, c'è stata anche un'ordinanza del Prefetto per illuminarla, per metterla in sicurezza, per rifare il manto stradale, ma pare che l'amministrazione non ne vuole sapere. E quindi nonostante l'ordinanza del Prefetto, nonostante l'acquisizione, questi residenti rimangono ancora indigenti in questa via, come in tantissime altre, di Talsano. Quindi costretti a vivere con la paura di furti, costretti a vivere con l'orologio al polso per il coprifuoco serale, sia d'inverno che d'estate, ma soprattutto, come già sentiamo tantissimo in quest'ultimo periodo su tutto il territorio, con continui furti nelle proprie abitazioni. Quindi, dicevamo, condizioni di vivibilità completamente inesistenti, ma la cosa più assurda è che loro, a loro spese, avevano anche proceduto per il frazionamento. Sì, hanno proceduto a loro spese per il frazionamento e la conseguente donazione della strada al comune, spendendo, mi sembra, intorno ai 1.500 euro a famiglia, unità immobiliare. Quindi, insomma, hanno anche sostenuto una spesa notevole affinché questa operazione si faccesse nel più breve tempo possibile. Però, purtroppo, le lungaggini e la lentezza dell'amministrazione lumaca della nostra città li fa vivere ancora in questo disagio. Bene, e ora dopo aver ascoltato Irene Lamanna, procederemo, andremo proprio in loco e ascolteremo la viva voce dei cittadini.